Salve a tutti cari ragazzi, sono Federico, l'amico di Venn, sono quello che lui ritiene un esperto cinematografico, in realtà non lo sono, però sono un appassionato e sono quello che aveva l'impopolare opinione appunto su Frozen, che poi anche il buon Venn vi ha riportato nelle sue recensioni, ma oggi sono qui per un altro motivo, sono qui per parlare di un film perso, perduto, raro, difficile da trovare, un film d'animazione di produzione europea, da quello che si è capito anche se non è sicurissimo, si parla di Carnival, Carnival è un film tecnicamente uscito nel 1999 diretto da Dean Taylor, che è stato l'art director per Tim Burton su Nightmare Before Christmas, oltre a avere tutta un'altra serie di credits in film più o meno interessanti. Dean Taylor si mise in testa di realizzare questo film d'animazione, che è incentrato su alcuni bambini che scoprono un parco divertimenti misterioso, da cui poi forse non potranno mai più uscire, ed è un film veramente particolare, un'estetica che rimanda molto alle opere di Tim Burton, ma chiaramente anche un'estetica molto ovviamente anni 90, essendo del 99. La cosa interessante di questo film è che il film non si trova, non esiste, o meglio, esiste, esiste, ma esiste in determinate versioni, principalmente esiste in versione francese, tant'è che se non ricordo male dovrebbe essere anche disponibile su Amazon Prime in Francia, e lì si può trovare forse anche in DVD se non ricordo male, ma in tutti gli altri paesi è praticamente un film perduto, è un film perduto, il doppiaggio inglese era considerato praticamente perduto, così come altri doppiaggi in Italia non è mai arrivato, quindi il problema non si è posto, questo film praticamente è sparito nel nulla tranne in Francia. Come mai? Le motivazioni sono varie, magari la mancanza di successo, il fatto che non sia stato trovato un grande distributore a livello internazionale, potrebbe essere, il fatto sta che questo film è sparito dalla circolazione per un sacco di tempo, ma fortunatamente un appassionato si è messo in cerca di quello che poteva trovare sul film, ha trovato il DVD con la versione francese e poi ha trovato anche un DVD praticamente taiwanese e o cinese, non ho ben capito quale tra le due o se, appunto uno cinese e uno taiwanese, con la cosiddetta e supposta perduta versione inglese. Purtroppo non con la qualità vera, ma con un audio piuttosto scarso, con le voci molto basse, però insomma almeno esiste. Il film purtroppo non è disponibile nel suo formato video originale, perché anche in tutte le versioni è purtroppo in panne scan, quindi è tagliato, il video purtroppo è tagliato e scannato in quattro terzi appunto nella versione cinese e taiwanese e in quella francese un po' meno è meglio e anche il master della versione francese è quello migliore disponibile, mentre le altre purtroppo no. Però già solo il fatto che sia riuscito a ricomparire è già un mezzo miracolo. Per dare una mano a Venn e fargli avere una versione meglio possibile, ho sovrapposto l'audio inglese alla versione video francese, appunto quella migliore. In questo modo si è goduto la parte migliore, insomma l'insieme con la versione inglese e il video buono di quella francese. C'è da notare che il doppiaggio inglese non è di altissima qualità, tranne per due personaggi doppiati da due attori molto famosi, uno è Hugh Glory, quello è il famosissimo Dr. House, mentre l'altra è Elena Bonham Carter, attrice ovviamente nonché ex moglie di Tim Barton, di incredibile fama dai tempi di camera con vista fino a buona parte della filmografia di Tim Barton, Harry Potter e quello che volete, insomma l'ha trovato un po' dappertutto. E niente, quindi loro diciamo danno quel quid in più alla versione inglese che in realtà se no sarebbe abbastanza piattina come doppiaggio. Quella francese in realtà ha un ottimo doppiaggio però appunto è in francese quindi chi non lo conosce è un po' un casino. Detto questo lascio la parola a Venn che l'ha finalmente visto e a tutti voi invece se volete recuperarlo potete cercarlo su archive.org. Aggiungo un particolare perché non mi ricordo se l'ho detto, ma probabilmente no, che Dean Taylor stesso era rimasto molto scontento del risultato diciamo della produzione e del prodotto finale e per questo motivo ha sempre detto che era contento che non si potesse trovare, insomma che non fosse disponibile per la visione praticamente da nessuna parte e quant'altro. Tra l'altro su archive.org troverete anche delle altre versioni considerate perse tipo quella col doppiaggio in spagnolo. Rumore di fondo 1 Rumore di fondo 2 Sì ragazzi, siamo tornati al ventilatore perché in questo momento è mezzanotte 27 del 15 giugno 2021 Voi su YouTube chissà quando ascolterete questa recensione, c'è stato un cigolio stranissimo da qualche parte mi sono preso paura Allora, cerchiamo di andare un attimo con ordine oggi Cerchiamo di andare un attimino con ordine Allora, innanzitutto, come primissima cosa, ci tengo a ringraziare la guest star di oggi Ciao Fede, ci tengo a ringraziare la guest star di oggi ossia il nostro buon caro vecchio amico cioè vecchio ma neanche troppo e ancora molto giovane Federico Gori che voi sul gruppo di Evangelion lo conoscerete come quello che fece il cineforum su Miyazaki Insomma, è il nostro caro esperto nel cinema è il nostro esperto nel cinema anche se lui vuole fare il modesto vuole fare il modesto dicendo non sono un esperto, sono solo un grande appassionato però sei il mio esperto di cinema Ciao Federico, spero che ti stia ascoltando questa cosa Insomma, signori, sì lo so oggi facciamo un attimino al contrario facciamo un po' come si suol dire da noi fiorentini in maniera non molto usuale ma si dice all'incovercio e infatti ragazzi vi renderete conto voi di Telegram, voi di Youtube no ma voi di Telegram vi renderete conto che per una volta la recensione l'ho registrata in un'altra chat e poi ve l'ho inviata a voi perché per l'appunto se no non ce la facevo inviare avevo paura di non riuscire a inviarvi i primi audio fatti da Federico che in questo momento vi ha fatto più o meno un'introduzione vi ha fatto un po' un'introduzione a quello che è il film di stasera ossia Carnival anche se non sono sicuro si dica Carnival perché essendo il titolo in francese ed essendo scritto nel film con la e accentata alla fine credo si dica Carnivalé essendo francese ma non sono sicuro quindi boh speriamo noi diremo comunque Carnival anche perché nel film nel doppiaggio inglese dicono Carnival Carnival quindi allora allora che cosa è questo film del 1999 barra 2020 cioè scusa barra 2002 2000 2000 sono un coglione sono un coglione no allora perché la produzione del film è marcata 99 ma la distribuzione in Francia è marcata 2000 quindi boh non so come trattarlo probabilmente scriverò nella data di pubblicazione 99-2000 e insomma è questo film d'animazione creato da Dan Taylor che come ci ha spiegato il nostro caro Federico Gori era il direttore artistico di Nightmare Before Christmas e altre varie opere infatti si vedrà nel film molte cose che le vedi e ti dici cazzo questo è preso da un film di Tim Burton pieno e insomma aiuto insomma il primo film di questa casa di produzione che è la Mill Images questo studio di animazione francese che in realtà ha fatto roba che per me è sconosciutissima non so nemmeno quanti dei loro film sono arrivati effettivamente in Italia ma comunque questo Carnival è un film di cui Federico mi ha parlato spesso è un film di cui Federico mi aveva parlato spesso dicendomi quando in genere si parlava di vari film che non erano arrivati in Italia che anche all'estero sembrano essere scomparsi insomma si parla di film che proprio sono i casi di lost media sono i casi di media perduti quei film che sono esistiti ma poi sono scomparsi dalla faccia della terra e non si sa che fine abbiano fatto infatti come ha raccontato lui questo film si era uscito cose varie poi a causa di vari motivi del tipo lo scarso successo magari anche il primo film poi anche considerato anche che è stato il primo film della Mill Images magari non è che avesse tutta questa pubblicità dietro ci sta che per un fattore e per un altro già si è passato molto in sordina poi lo stesso Dan Taylor sembra che non apprezzasse il proprio lavoro e quindi si è detto senti sai che cosa togliamo tutte le versioni del film togliamole tutte devo aprire un attimo un'altra ante della finestra così forse passa più aria perché inizia a essere caldo si è detto sai che cosa tutte le mie versioni del film ma facciamole ritirare sto film è una merda via non mi piace più l'ho fatto io ma non mi piace più togli tutto e il film poi è ricomparso perché a quanto pare in Cina barra Thailandia hanno ritrovato una versione DVD di questo film non si sa quanto bootleg quanto originale ma l'hanno ritrovata e più o meno hanno caricato su internet i file e più o meno qualcosa è riuscito a essere recuperabile qualche cosetta è stata recuperata quindi sono riuscito a trovarlo e voi dovete capire perché c'è una cosa che vostro caro Federico non vi ha detto ossia che è lui quello che ha cercato questo film in lungo e in largo per l'internet e non è riuscito a trovare assolutamente niente ci ha perso le giornate se non mesi a cercare questo film sul web e non lo riusciva a trovare parentesi i film è presente effettivamente su Amazon Prime Francia ma dovete per l'appunto essere in Francia a vederlo e ho letto da Reddit che è disponibile anche su Rakuten TV che è comunque sito di streaming ma presumo sempre se tu sia in Francia non so se basti una VPN per aggirare questo problema cioè io non so dirvi bene come funziona perché le VPN so come funzionino a livello teorico ma non l'ho effettivamente mai usata una all'atto pratico quindi non so di preciso come possa funzionare se qualcuno di voi che sa come funziona una VPN vera può constatare questa cosa mi faccia sapere ah vi chiedo un favore se una persona di voi che sa usare una VPN come si deve e ha Amazon Prime o Rakuten ma andiamo sul sicuro e facciamo Amazon Prime e riesce a fingersi in Francia mi guardi se è possibile se questa versione del film possiede i sottotitoli possiede i sottotitoli anche in inglese o anche solo in francese perché c'è un problema di comunicazione all'interno di questo film di cui vi parlerò poi ma a cui Federico vi ha già accennato ossia che l'audio in inglese non si capisce quasi un cazzo di quello che dicono i personaggi quello in francese non lo so perché non l'ho neanche ascoltato perché uno punto più grande il francese non lo so ma punto numero due ancora più importante è che non ci sono sottotitoli quindi mi guardo un film in francese senza sottotitoli senza effettivamente capire una mazza di quello che dicono poi io ho una brutta back story con il francese però va bene secondo me mia madre se il doppiaggio francese è effettivamente comprensibile rispetto a quello inglese forse mia madre riuscirebbe a seguirlo mia madre riuscirebbe a guardare il film a capire bene o male quello che dicono perché è lei in casa quella che sa il francese cioè ragazzi mia madre si ricorda il francese che ha studiato anni e anni a dietro quando io appena ho finito l'esame di terza media ho dimenticato ogni singola cosa di francese anzi ragazzi sappiate che molto spesso mi dimentico persino che grazie in francese si dice merci me lo dimentico nel vero senso della parola quindi sappiate come sono messo insomma e di che cosa parla Carnival allora la storia di Carnival all'inizio ho avuto un attimo di problemi a capire alcune cosette proprio a causa del fatto che il doppiaggio inglese lascia molto a desiderare ma non perché sia doppiato male ma proprio perché la traccia audio è essere fottuta probabilmente per il fatto che è un rip di un DVD cinese quindi era proprio la qualità che faceva schifo e molto spesso i personaggi si mangiavano le parole ma do la colpa al file audio anche è vero che molti personaggi parlano in maniera non molto esaltata e come ha detto Federico ce ne sono soltanto due o tre che veramente si salvano quindi cioè il doppiatore di Dr. House cioè in realtà non il doppiatore proprio l'effettivo Dr. House si ha un ruolo abbastanza buono però è anche vero che dice tipo due frasi in tutto il film quindi boh tipo ce l'hanno messo per attirare un po' di views ma va bene e la ragazza Millie che anche lei è molto timbartiana che gran termine lei ha un buon doppiaggio però insomma cioè agli alti e bassi e poi c'è uno dei ragazzi protagonisti uno dei bambini protagonisti che anche lui ogni tanto ha qualche momento di picco e poi ritorna anche a livelli degli altri però comunque sia sono più o meno tre i personaggi che più o meno li ho trovati un po' meglio a livello di voci allora praticamente cos'è la storia sono questi sono il gruppo di questi quattro ragazzi più un gatto che in realtà è lì per fare le scenette comiche che si ritrovano in questa dimensione parallela che è questo parco di divertimenti incredibile cioè è tipo l'Otherworld dei Silent Hill però fatto effettivamente divertente a parco di divertimenti tutto figo tutto bello ma come ogni storia ci insegna quando tutto è così bello tutto figo stile l'altro mondo di Coraline c'è sempre l'inculata questo quando tutto quanto è così bello paradisiaco afrodisiaco c'è sempre qualcosa pronto a sfondarvi la cavità anale quindi insomma cosa succede tutti quanti sono lì si divertono incredibile tutto divertente tutto bello personaggi incredibili finché non si inizia a capire dopo un po' di tempo perché secondo me un paio di scene potevano essere un attimino ritoccate ma ci arriviamo vi racconto la storia a grandi linee praticamente si scoprirà che la maggior parte dei giochi delle attrazioni del parco sono in realtà bambini che sono andati nel parco prima di loro e sono stati trasformati in attrazioni e questo si capisce da una delle bamboline di un teatrino delle bambole che cerca di comunicare con la bambina del gruppo protagonista dicendole ehi andatemene via prima che sia troppo tardi scappate levateli dal cazzo e queste robe qui in tutto questo si unisce anche un'altra ragazza questa Millie che è questa ragazzina molto dall'aspetto Tim Burton che è vestita tutta bianco e nero e ha questa bambolina bianca questa bambolina bianca in mano che sembra tipo il suo tesoro più incredibile che non si sa bene chi sia non si sa bene chi sia sbuca fuori dal nulla cerca di farsi amici tutti gli altri e insomma è molto strana è molto strana come personaggio tanto che non riuscite a capire se si ha dei buoni o dei cattivi perché si comporta in maniera troppo strana per essere un buono ma se fosse stato un cattivo si sarebbe già rivelato prima del solito insomma alla fine si scoprirà che Millie è questa bambina che è intrappolata nel parco dal 1929 e assi parentesi nel parco il tempo scorre in maniera diversamente non come nel mondo umano e si scoprirà anche che la bambolina di Millie ha questi poteri raggio ultrafotonico che trasforma le persone in attrazione del parco infatti alcuni dei quattro ragazzi protagonisti verranno trasformati in questi quattro componenti di questa giostra tipo uno diventa l'unicorno uno diventa l'orso e queste robe qui e per quale motivo lei li trasforma perché c'è tipo una maledizione su questo parco e praticamente la maledizione si spezza se anche solo uno dei bambini che vi entra riesce ad uscire ovviamente ci sono le inculate non si può uscire easy il barco da cui sono entrati quando cercano di scappare è murato e devono trovare un'altra uscita che c'è però ci arriviamo cioè non è importante ai fini della trama insomma Millie non è cattiva però è costretta a trasformare gli altri bambini in attrazioni perché lei ha paura che se bisogna considerare il fatto che 1929 il film è del 90 70 più o meno facciamo 70 80 anni 2 3 4 5 6 7 8 9 70 anni 70 anni ok facciamo 70 anni ok probabilmente è 70 anni che lei è nel parco ma è sempre ragazzina e lei ha paura che se qualcuno riesca a uscire dal parco e la maledizione si rompa tutti quanti tornino nel mondo normale lei non sa che cosa potrebbe accadere se ritorna nel mondo umano con la stessa età se ritorna nel mondo umano da vecchia se quando ritorna nel mondo umano è troppo vecchia e muore subito non lo sa e quindi lei per paura lei ha paura di ciò che potrebbe accadere quindi è costretta a trasformare tutti gli altri per non far uscire nessuno poi è bello questo perché paradossalmente sarà lei a farsi coraggio uscire dal parco salvando tutti quanti letteralmente fa il tuffo nel vuoto cioè nel proprio senso della parola il tuffo nel vuoto si può dire così e lei si dice cazzo però il personaggio X di cui non mi ricordo il nome è stato troppo buono come mi ha mostrato qual è la via lui è diventato un'attrazione il minimo che posso fare a questo punto ci sono solo io non posso far continuare questa cosa in eterno usciamo dal parco e mandiamo a fanculo tutti insomma Millie riesce a uscire dal parco si salvano tutti quanti tutti i bambini trasformati ritornano umani si presume tornano in mondo normale non si sa con che età ma comunque ritornano tutti umani e alla fine si scopre una cosa e qui devo ringraziare un attimo Federico che mi ha detto alcune cosette che in realtà mi ha comunicato che gli sono state dette dalla sorella quindi ora io non so se Federico non so se la tua sorella preferisco non dire il nome per questioni di privacy ma non so se tua sorella conosca effettivamente il francese e abbia visto il film in francese e quindi lo abbia capito ma in tal caso all'inizio del film c'è questo vecchietto che in maniera che indirettamente manda i ragazzi dentro il parco dice che io ho capito anche un buona fortuna ma a causa della scarsa qualità audio non sono riuscito a capire perché i bambini sono finiti nel parco insomma alla fine del film questo vecchietto che è praticamente dottora usa anche il bastone si scopre essere il fidanzato barra fratello barra amico non ho capito quale dei tre di Millie della bambina Tim Burton soltanto che lui è vecchio e lei è ancora bambina la vede attraverso il barco e lui dice cazzo sei te lei non esce dal portale ma ci entra lui quando lui rientra nel portale è giovane bambino insieme a lei e praticamente loro due sono gli unici che restano dall'altra parte del portale e rimangono dentro il parco e insomma si sono elettamente sacrificati cioè Millie si è sacrificata per il grande bene for the greater good e allora a quanto pare questo vecchietto essendo essendo era un bambino che all'inizio non è voluto non ha voluto entrare nel parco non ha voluto entrare nel parco ma la diciamo la sorella diciamo a questo punto che Millie è la sorella non ha voluto entrare nel parco ma la sorella si lui è rimasto fuori la sorella non è più tornata e lui è stato lì tutta la sua vita aspettare che tornasse però a una certa età è diventato troppo grande ed essendo diventato adulto non poteva più entrare nel parco anche volendo anche provandoci però invece potevano entrarci i bambini quindi ci mandava altri bambini nella speranza che trovassero la sorella e la convincessero a uscire quindi deve essere per questo che lui indirettamente ha mandato i quattro ragazzi protagonisti all'interno del parco grazie sorella di Federico per aver più o meno chiarito questo mio dubbio perché era il dubbio più grande che avevo in realtà perché nonostante la scarsissima qualità audio e la grande fatica nel riuscire a capire cosa dicessero nel doppiaggio inglese la trama di base si capisce la trama di base si è capita anche perché non è estremamente complicata la trama di base non è estremamente complicata anzi oserei dire che la trama bene o male cioè la trama di base la capite anche senza dialoghi da quanto è semplice certo nel mio caso vi perdete la motivazione del ma perché i ragazzi protagonisti sono finiti nel parco per quale ragione sono finiti lì e per quale ragione il vecchio che non li ha nemmeno mai visti in faccia gli ha detto buona fortuna quando hanno attraversato il portale e nulla nulla questa era la storia di carnival o meglio la trama del film la storia del film ce l'ha raccontata un po' Federico e poi ve l'ho rispiegato un attimino anche io magari mettendo un attimo i puntini su lei su alcune cosette che ha detto per quanto riguarda vabbè il doppiaggio ormai non deve passiamo direttamente al doppiaggio oggi facciamo uno strappo alla regola il doppiaggio inglese escludendo il fatto che la qualità audio facesse cacare cioè la musica era over the top mentre i dialoghi non si capiva quasi niente i dialoghi erano tipo tutti biascicati e a volume bassissimo sono riuscito a capire due o tre cosette alzando il volume a 20 però il problema è che il volume a 20 si sentiva la musica a palla certo capivi meglio i dialoghi ma diventavi anche sordo con la musica c'era un problema di mixing audio terrificante però per quel poco che sono riuscito a sentire di voci cercando ora io parlo cercando di immaginare che il problema dell'audio non ci fosse sinceramente molte delle voci mi sono sembrate piatte mi sono sembrate molto monotone e almeno il doppiaggio inglese nel doppiaggio inglese molte voci mi sono sembrate monotone a parte quella di uno dei due ragazzi protagonisti e quello di quello di Millie che era la bambina Tim Burton e e vabbè Dr. House ha detto due frasi in tutto il film quindi non so quanto conti però vabbè non è stato malvagio però poteva essere di meglio diciamo che se facessimo un fan-dub italiano non ufficiale secondo me verrebbe diecimila volte meglio in realtà spero in un doppiaggio non ufficiale di questo film considerato anche che se tutto va bene allora ragazzi se tutto va bene io parlo al futuro ma se tutto va a secondi piani quando voi su youtube sentirete questa recensione ci sta che io stia già facendo un corso di doppiaggio in questo momento e sia mai che potrei diventare un doppiatore vero e mettere mano su questo film anche in maniera non ufficiale perché per vie ufficiali credo sia impossibile perché lo stesso Ian Taylor ha detto no basta questo film deve scomparire mi pento di averlo fatto deve scomparire non voglio più vederlo quindi forse un doppiaggio ufficiale non uscirà mai nel mondo però un doppiaggio amatoriale fatto da dei fan magari pubblicato su qualche sito dove il copyright non è così bastardo come su youtube sia mai sia mai un pensierino ce lo potrei fare dovessi diventare doppiatore vero un pensierino su questo film ce lo potrei fare per quanto abbia un attimino un paio di difetti però ora ci arriviamo per il doppiaggio francese che dovrebbe essere la lingua originale non posso dire nulla perché non l'ho visto lo so ragazzi per le regole della recensione dovrei vedere i film in genere nella lingua più comprensibile a me e poi in lingua originale però stasera non avevo sbatti di rivedermelo anche in francese anche perché non credo di averla scaricata la versione francese del film quindi boh però ragazzi facciamo così se un giorno dovessi ascoltare il doppiaggio originale in francese vi faccio un po' scriptum vi faccio un po' scriptum devo ancora sentire Shaolin Socher ma in lingua originale perché il doppiaggio italiano mi ha veramente fatto venire il suicidio insomma non male non male potrei provare a sentire il doppiaggio francese con mia madre se ho sbatti e se ce l'ha pure lei di vedersi un film in francese senza sottotitoli bene o male mi fa tradurre due o tre cose da lei perché io del francese ho rimosso quasi ogni cosa allora il francese bene o male impegnandomi riesco a capire più o meno due o tre cosette in una frase se ce l'ho scritta davanti e ho il mio tempo per mettermi lì a tradurre bene o male riesco a intuire due o tre cosette però è molto tosta come lingua per me per me il francese come lingua è molto molto cattiva quindi non dimentichiamo escludiamo il fatto ignoriamo il fatto che ho tipo dei Vietnam flashback delle scuole medie con il francese o dei momenti che sono veramente da flashback del Vietnam ma comunque sia aspetto visivo aspetto visivo aspetto visivo allora ragazzi visivamente questo film non gli si può dire niente ora aspetto dei personaggi è quello che è non mi è dispiaciuto all'inizio mi ha quasi dato un un vibes di ed è daddy qual è la parola italiana per vibes sensazione mi ha dato una sensazione di ed è daddy però poi andando più avanti è cambiato ha proprio preso il suo stile quindi non lo so a parte il ragazzino con la faccia più lunga e il naso che è letteralmente una rapa distorta più o meno tutti quanti mi è piaciuto il design mi è piaciuto il design di un po' tutti i personaggi a parte lui visivamente gli sfondi e gli scenari sono gestiti benissimo secondo me questo film dal mio punto di vista io l'ho interpretato come un aperte virgolette ehi sono Diane Taylor sono l'art director di Tim Burton questo è ciò che visivamente sono in grado di fare chiuse virgolette infatti secondo me molte scene sono un attimino più riempitive e servono ad aggiungere contesto animazione disegni e cose varie quindi secondo me a livello di scorrimento di trama due o tre sceni si potevano togliere o accorciare diciamo che quanto dura il film 74 minuti mi sembra 74 minuti sono un'ora e dieci più o meno sono quasi un'ora e un quarto diciamo che invece che un'ora e un quarto secondo me il film poteva durare un'ora no ma secondo me un'ora e sei un'ora e sette poteva durare no forse dieci minuti oddio sì forse cinque minuti buoni di film si potevano togliere secondo me cinque minuti buoni si potevano togliere ma neanche troppo secondo me hanno deciso di metterci un attimino troppa roba all'inizio nel far vedere quante attrazioni ci sono nel parco perché una certa il film mi ha dato l'impressione di ma in questo film i ragazzi si divertono nel parco oppure succede anche qualcos'altro a livello di trama infatti ci sei messo un po' a far accadere qualcosa no visivamente mi piace mi è piaciuto tantissimo visivamente è stato molto bello si vedeva tantissimo l'atmosfera da film di Tim Burton e sai grazie al cazzo l'art director è lo stesso però mi è piaciuto mi è piaciuto visivamente e devo dire sinceramente ci fossero altri film così ve li guarderei senza problemi tra l'altro mi è piaciuto vedere un piccolo dettaglio mi è piaciuto vedere un dettaglio che non so se sia una citazione volontaria o se sia solamente una coincidenza che il suonatore del pianoforte barra organo all'interno della casa stregata ha tipo questa faccia mezza coperta e quando si toglie la maschera mi è sembrato un sacco Jack Skeleton mi è sembrato un sacco Jack Skeleton che tra l'altro Skeletron in italiano è Skeletron che tra l'altro era già uscito il film perché Nightmare Before Christmas è del 93 se non mi sbaglio mentre questo film è del 99 barra 2000 quindi oddio ho tirato un pestone a una scatola quindi secondo me potrebbe essere stata una reference piena anche perché inizialmente la faccia è tipo a scheletro e mi sembra quasi identica e nell'inquadratura dopo diventava tipo una zucca e io ho pensato Jack il re delle zucche vuoi vedere che potrebbe essere a tutti gli effetti una citazione potrebbe esserlo perché no perché no quindi opinione opinione sul film e alla fine la scaletta l'ho lasciata lì su un foglio ma è difficile dare un giudizio su questo film dal mio punto di vista dare un giudizio su Carnival è molto tosta perché non è un film perfetto è un film che secondo me aveva un po' di cose che si potevano aggiustare o rilavorare un attimino meglio però è anche vero che oltre che esserci stato dell'impegno è un film che abbiamo ritrovato per puro miracolo è un film che abbiamo ritrovato per fortuna praticamente perché qualcuno nel mondo aveva ancora una copia ed è stato abbastanza clemente da caricarlo online su archive.org tra l'altro quindi che si fa perché ha un po' di difetti ma è anche vero che questo film ha dietro una storia quindi non lo so allora dovessi giudicarlo come un film normalissimo dovessi giudicarlo come un film che non ha avuto tutto il passato che ha avuto che non ha avuto tutto questo passato di no cancelliamolo dalla faccia della terra ipotizzando che sia un film normale che te vai e compri il negozio sinceramente una sufficienza piena ce l'ha una sufficienza piena ce l'ha però secondo me avrebbe necessitato di un po' più di lavorazione ciò nonostante è fatto comunque bene ciò nonostante è fatto comunque bene per quanto la trama sia molto semplice e sia comprensibile anche senza capire dialoghi e questo ve lo posso confermare perché non ho capito quasi nulla di quello che dicevano i personaggi però comunque la trama di base l'ho capita quindi facciamo un 6 e mezzo un 6 e mezzo non 7 perché comunque molte cose erano più rilavorabili ci si poteva rimettere mano su un po' di cose e via se invece dobbiamo considerare anche il fatto che è praticamente un caso di lost media è praticamente un caso di film perduto ritornato alla luce per una semplice botta di culo io direi anche che un quasi settino ci arriviamo direi che un quasi settino ci arriviamo e complimenti per l'impegno che hanno avuto tutti quanti sull'internet nel mondo per riuscire a riportarci questa gemma perché ah si è vero ragazzi alla fine avevo iniziato un discorso e non ve l'ho finito alla fine avevo iniziato un discorso e non ve l'ho finito porca puttana allora ragazzi questa volta lo finisco allora vi avevo detto che Federico ha passato i mesi ha passato mesi forse anni a cercare questo film e non lo riusciva a trovare da nessuna parte certo c'era su Amazon Prime però non so perché non gli funzionava forse perché dovevi essere in Francia e non ha provato con una VPN ma non lo so insomma il fatto sta che questo film non riusciva a metterci le mani sopra da nessuna parte ah e mi sembra che le copie fisiche in francese non vengano spedite all'estero mi sembra di capire quindi secondo me l'unica possibilità che puoi avere è fartelo comprare da uno che vive in Francia e poi fartelo spedire da lui tipo per vie traverse alla fine gliel'ho trovato io alla fine gliel'ho trovato io in tempo mezz'ora in tempo mezz'ora gliel'ho trovato io su archive.org e Federico se stai ascoltando questo devi ancora diventare il mio schiavo personale per una settimana devi ancora venire a pulirmi casa per una settimana non hai ancora saldato il tuo debito io ti ho trovato un film che te cercavi da mesi e mesi e mesi e tu non sei ancora venuto a pulirmi casa cioè ma che schifo di maid sei che schifo di maid giapponese col vestitino bianco e nero con la spazzola in mano sei vieni qui e pulisci sotto la mia schiava ok no la smetto prima che si inizino a creare troppi doppi sensi che poi cioè io e te scherziamo fra di noi però devo anche considerare che quest'audio andrà su youtube quindi non posso nemmeno dilungarmi troppo ok comunque state tranquilli cioè in genere dico molto di peggio negli audio insomma niente la fin fine viene fuori che questo film glielo ho trovato io e che Federico deve ancora farmi da schiavo per una settimana quindi beh che dire beh che dire questa è Carnival questa è Carnival sinceramente per quanto non sia un film perfetto è comunque fatto molto bene c'è stato dell'impegno dietro mi dispiace tantissimo che sia scomparso però comunque sia sono contento di averne parlato sono contento di aver portato questo film un po' alla luce per far sapere alla gente che ehi guardate questo film è esistito quindi non lo so mi piace perché anche un pochettino la missione delle recensioni diciamo così è un attimino lo scopo delle recensioni quello di trovare film possibilmente non usciti in Italia da far conoscere un po' come è successo per Lake Mungo oddio che cazzo è oddio l'infarto l'infarto è una falena vero no vi giuro è volato qualcosa avanti a me credo fosse una falena mi sono cacato addosso mi sono spaventato vi giuro vi giuro che mi sono spaventato se fosse una falena quella che mi è volata davanti mi si sono congelate le gambe dalla paura ho pensato fosse un moscone porca puttana no insomma stavo dicendo stavo dicendo no che è un pochino lo scopo delle recensioni come Lake Mungo un film bello ma che in Italia non è uscito e di conseguenza in Italia salvo qualche intenditore di cinema estero non può conoscere nessuno quindi sono un po' contento di aver portato alla luce questo film e in parte devo davvero ringraziare Federico perché se non fosse stato per lui non avrei mai scoperto che questo film esistesse anzi probabilmente se lui non mi avesse detto niente adesso oggi in questo esatto momento non sarei neanche a conoscenza cioè ignorerei persino il fatto che questo film esista o perlomeno sia esistito quindi grazie grazie fede e nulla e ancora una volta Venne vi ha fatto conoscere un film ancora una volta Venne vi ha fatto conoscere un film di cui probabilmente nessuno sapeva e sono contento di ciò sono contento di ciò ragazzi per una volta parliamo di un film molto molto interessante e direi che possiamo concludere con un bel biscotto possiamo concludere con un bel frollino frollino ah ah madonna che caldo sarà divertente ora fare le recensioni camminando avanti e indietro con con 29 gradi e mezzo alle una di notte e siamo solo a metà giugno chissà a luglio che cosa accadrà questo biscotto è un po' più duro del normale potrei stoppare l'audio ma devo prima avere le dita libere e siamo quasi ragazzi portate un attimino pazienza adesso beviamo un attimino per sciacquarci la bocca e restare idratati perché ho parlato per 37 minuti senza mai bere bevete bevete e restate idratati bimbi che bel risciacquo bocca quindi niente gente non ho la minima idea di quale sarà il prossimo film non so minimamente quale sarà il prossimo film da vedere però sono contento di essermi tolto carnivale carnival di mezzo anche perché è un film che in realtà avevo da un po' di tempo era già un paio di mesetti che ce l'avevo nel pc che mi dicevo adesso lo guardo adesso lo guardo però non mi sono mai messo a vederlo per una volta mi sono detto sai cosa non è tardi iniziamolo adesso facciamolo ora perché se non lo inizio adesso non l'inizio mai e poi avevo chiesto della roba a Federico mi sono detto ormai lo ha fatto non posso più tirarmi indietro stasera lo guardo e non è andato un po' stasera l'ho visto e ce l'abbiamo fatta quindi qui è Ven che credo di aver concluso tutto e vi saluto direi che vi saluto gente quindi buonanotte ho parlato per 38 minuti 38 più 5 minuti di introduzione di Federico 38 39 41 42 43 43 minuti direi che è stata una recensione con i fiocchi e che oggi c'è stata pure la collaborazione cioè ragazzi ma cosa sta diventando cosa sto diventando cioè il prossimo passo è fare direttamente una recensione assieme ad un'altra persona in tempo reale cioè incredibile cioè è bellissimo vedere come Vento Divino si sta aggiornando sta diventando sempre più figo nelle recensioni quindi non mi dilungo più di tanto e direi buonanotte direi buonanotte gente non sto a aspettare che arrivino i 40 minuti non sbatti bacione della buonanotte grazie a tutti per l'ascolto mua